benvenuti nello scenario delle alpi apuane fieramente alpi per la loro forma aguzza e la loro maestosa bellezza dimora storica del fiero ed indomito popolo dei liguri apuani ma più che scenario ad oggi possiamo parlare di mera e propria scenografia che mostra gli eredi di quel fiero popolo che fu parte del maestoso passato geologico ma nascosto agli occhi della civiltà il bianco scheletro sorregge stancamente il maestoso scenario ormai ricordo di un rifugio per ribelli resistenti di ieri ma motivo di lucro e ricchezza per i barbari predatori dell'oro bianco di oggi poca carne verde sempre più scarna attaccata al lucido avorio di uno scheletro sempre più consunto e depredato ai posteri l'ardua sentenza se ne resta qualcosa